Lo sviluppo della sensoristica consente di avere dispositivi sempre più piccoli, che consumano meno energia, che rilevano diversi parametri. L'arrivo del 5G e delle reti full fiber giocherà un ruolo chiave? Che cosa cambierà? Giocherà un ruolo chiave soprattutto per quanto riguarda alcune applicazioni dell'Internet of Things, non per forza tutte. Pensiamo ad esempio alle applicazioni legate al mondo del mission critical, quindi quelle applicazioni legate ad ambulanze connesse, ad esempio che trasmettono dati sullo stato di salute del paziente, della persona che ha avuto magari un incidente durante il tragitto verso l'ospedale e quei dati sono fondamentali, devono essere accurati e devono essere trasmessi in tempo reale a una velocità molto elevata e quindi qua il 5G giocherà un ruolo chiave proprio per permettere poi all'ospedale di preparare la sala operatoria a seconda delle esigenze di quel paziente. Oppure pensiamo a tutte quelle applicazioni per il mondo dell'auto, quindi il fatto di avere una tecnologia ad esempio come il 5G che permette di avere dati accurati, capillari e soprattutto di trasmetterli con grande velocità permette ad esempio di ridurre il tempo necessario per azionare una frenata d'emergenza automatica quando l'auto si pone davanti, dietro diciamo ad un altro veicolo che sta frenando. Quindi sono veramente applicazioni, scenari in cui un secondo in meno, un secondo in più può fare la differenza per la salute di una persona in auto, per la salute di una persona che viene trasportata in ambulanza, giusto appunto per fare questi due esempi. È chiaro che se invece pensiamo ad altre applicazioni più classiche, ad esempio un cestino all'interno di una città per monitorare il livello di riempimento e per capire quando è opportuno andare a svuotarlo, questo è un dato diciamo che può essere trasmesso anche solo una o due volte al giorno, che contiene una ridotta mole di dati e che diciamo la sua capillarità non è una variabile così rilevante per capire quando è il momento opportuno in cui andarlo a svuotare. Un'altra caratteristica molto importante di questa rete è che permette uno scambio di grandi mole di dati, di gigabyte e gigabyte di dati e questo ad esempio potrebbe avvenire in un grande evento, ad esempio una grande manifestazione, un grande edificio in cui ad esempio all'interno di una fiera di una manifestazione si potrebbero creare delle situazioni possibili di pericolo e quindi delle videocamere intelligenti magari dotate di algoritmi di intelligenza artificiale che permettano di capire e monitorare eventuali situazioni anomali di possibili furti potrebbero garantire la corretta trasmissione dell'informazione in tempi brevi soprattutto grazie alle tecnologie come il 5G. Oltre al 5G dobbiamo aspettarci un'ulteriore evoluzione? Sì, già si sta lavorando sul 6G, su questo ancora chiaramente si sa poco a livello di specifica, a livello di quali saranno gli use case più idonei per questa nuova tecnologia. Posso dire che sicuramente il 5G ad oggi permetterà di coprire tutte le applicazioni oggi sul mercato. Le reti di quinta generazione renderanno ancora più intelligenti le città? Potenzialmente sì, il problema è che le barriere che oggi limitano il mercato delle smart city non riguardano le tecnologie e quindi anche se queste tecnologie saranno disponibili e pronte sul mercato, temi come la mancanza di competenze, la mancanza di risorse economiche, la necessità di valorizzare i dati anche provenienti dal mondo degli oggetti connessi all'interno di un'area urbana, sono temi che ancora, soprattutto a livello di pubbliche amministrazioni locali, non si è riusciti a superare. Noi abbiamo fatto un'indagine da poco che ha coinvolto un centinaio di comuni italiani con popolazione superiore a 15.000 abitanti e ci hanno indicato proprio loro queste barriere. Nel 60% dei casi c'è un problema di competenze, citato da loro proprio il dato. Nel 50% dei casi c'è un problema di risorse economiche. Senza un finanziamento pubblico difficilmente si riesce a far partire un progetto, non si hanno i fondi e quindi è bello parlare di tecnologie ma è necessario che a livello di governance, a livello di fondi, a livello di competenze si faccia un passo in avanti significativo per provare poi a metterli in campo. Quante sono le amministrazioni che dichiarano di aver avviato almeno un progetto di smart city all'interno della città? Allora un comune su tre dichiara di aver avviato un progetto per la città intelligente e questo è un dato se vogliamo abbastanza positivo. Il problema è che appunto spesso questi sono progetti ancora che sono limitati al singolo verticale della smart city, ad esempio solo un progetto che riguarda il traffico, solo la parte di illuminazione, solo la parte dei rifiuti e non vedono mai un quadro complessivo, un programma smart city a 360 gradi in cui diversi assessori si parlano tra loro e decidono di mettere in campo una strategia condivisa, se non in alcune grandi città, Milano, Torino, poche poche grandi città. E poi dall'altro lato c'è il tema della governance, cioè quando va bene queste sono amministrazioni che durano cinque anni, quando va male probabilmente anche qualche anno in meno e questo non permette di fare dei piani a lungo periodo o a medio periodo e quindi ogni giunta, ogni amministrazione decide di fare un programma che però deve avere un ritorno nel breve termine per poi spenderlo nelle successive elezioni e questo fa sì che sono tutti progetti molto piccoli, sperimentazioni, progetti pilota e mai progetti che guardano a tutta la città e che sono soprattutto stabili nel tempo che anche la giunta successiva può ritrovarsi come benefici, no? Anzi abbiamo l'effetto contrario, cioè che la giunta successiva decide di riazzerare tutto il programma portato avanti dall'aggiunta precedente.